Quali iniziative si intendono intraprendere per la chiusura della stazione sciistica del Monte Sirino danneggiata a gennaio da una valanga? E quanto chiede il consigliere regionale del Partito Democratico Vito Santarsiero in un'interrogazione al presidente della giunta regionale? L'esponente politico spiega la straordinaria potenzialità dei nostri parchi e come essi rappresentino una risorsa che ancora non riusciamo ad utilizzare nel miglior modo. Occorre aprire una nuova stagione, continua l'esponente politico, con investimenti, politiche integrate, formazione ed una vera pianificazione delle azioni da mettere in campo, con esperti e senza improvvisazione, dalla comunicazione del territorio alla sua infrastrutturazione. Parchi, arte, cultura, centri storici e no gastronomia, aggiunge il consigliere regionale, devono rappresentare il vero volano per la crescita della nostra regione. E sul Sirino, conclude Santarsiero, merita inoltre un accenno lo sforzo di guide e operatori per una fruizione dell'ambiente, da parte di portatori di handicap e privi della vista in particolare.